Allora Presidente Bertin, mezzi di trasporto, infrastrutture quindi anche per favorire il turismo, c'è stata una recente un po' querelle questione relativamente alla zona delle Terme per unirla alla città di Padova per dare reciproco beneficio. Il nocciolo della questione qual è? Spieghiamolo ai nostri telespettatori. La notizia è fresca di oggi che in 12 minuti dove si gira la città e dove si riesce ad arrivare dal centro città in 12 minuti. Vediamo che tragitto è molto corto quello che si riesce a fare. Quindi per andare alle Terme è veramente un'odissea e non lo dico io, lo dicono i dati raccolti e quindi quando si parla di unire le Terme alla città e la città alle Terme si parla di un servizio, un trasporto pubblico che sia efficiente. A me personalmente non mi interessa che sia il tram, il bus elettrico, ci vogliono corsie preferenziali in modo che se uno parte da un punto in centro a Montegrotto o ad Abano si trova in centro a Padova e sa determinare anche il tempo di spostamento, sa che lui su 10 minuti arriva in centro a Padova. Le città d'Europa succede questo. Questi devono essere fatti con più orari e più tratte perché quando sento di parlare ma c'è il treno a Montegrotto, sì ma io devo prendere il treno che passa una volta all'ora per arrivare. In quale città europea esiste un trasporto pubblico che devo aspettare un'ora che passi? A questo punto uno prende e dice va bene devo andare a Venezia e ci sta però non per andare a Padova. Esatto, quindi un collegamento intelligente da Le Terme a Padova e da Padova alle Terme. Tra Le Terme e Padova sappiamo che ci sono 5 milioni di turisti, questi sono i dati che insomma mi sono stati dati, con 5 milioni di turisti insomma pensiamo che qualità di indotto porta questo tipo di turismo al nostro territorio, senza contare le città d'arte, senza contare tutte quelle che sono poi le città murate e senza contare i colli, ne abbiamo tantissime. Uniamo i punti cardine e dopo vedremo che insomma la gente si incuriosisce e gira e vorrà ritornare per vedere ancora di più il nostro territorio. Però realisticamente il trasporto su gomma, punto di domanda, perché comunque c'è ma non è efficiente ed è lentissimo. Quello che esiste, corsie preferenziali, ci vogliono corsie solo per il trasporto pubblico. Lo so che questo comporta delle infrastrutture importanti, però se mai cominciamo mai ne andremo fuori da questa situazione e resteremo sempre un territorio isolato. Quindi non si parla di un tram? No, ma io non mi permetto di decidere quale sarà il mezzo da usufruire per collegare i due poli importanti. Io dico che quelli esperti, quelli che sanno cosa serve, trovino il mezzo più opportuno. Se il tram costa 350 milioni per fare 5 chilometri, se ci saranno altri mezzi che costano meno, ma magari dovremo fare delle infrastrutture per avere la corsia preferenziale. Le forme di navette insomma. Insomma, qualsiasi mezzo andrebbe bene, secondo me, basta che si faccia il collegamento. È un collegamento oggi che esiste, è un collegamento insufficiente, non è assolutamente un collegamento che rende i tempi certi, perché quando ti metti in colonna, anche se hai un mezzo pubblico, resti in colonna. E quindi ci sono tutti questi vari aspetti che devono essere, secondo noi, valorizzati e messi subito anche su un progetto dove potremmo dire che magari fra due, tre anni, uno, non lo so, avremo anche questa forma di collegamento. Che diventa importante assolutamente da questo punto di vista. Però ovviamente non si può calcolare sugli spostamenti attuali perché pochi si muovono con il mezzo pubblico. Sono assolutamente efficienti e soprattutto non sono soddisfacenti per chi deve fare questo tipo di tratta. E soprattutto noi abbiamo anche tanti nostri collaboratori che si devono spostare col servizio pubblico. Qui ci allacciamo a quella questione dei lavoratori. E quindi diventa veramente qualcosa. Oggi, se puntiamo ad essere un hub metropolitano e ragioniamo come città metropolitana, dobbiamo avere anche i servizi metropolitani, dobbiamo avere anche tutto quello che serve per fare una città metropolitana. Invece qui mi sembra che ancora stiamo ragionando a compartimenti stagni. Ognuno pensa al proprio campanile e non si vede mai la possibilità di fare squadra o aggregazione anche sui servizi da parte dei comuni. Questo vuol dire anche fare un salto di qualità e un salto anche di mentalità. Dobbiamo essere più propensi a dare dei servizi che oggi sono basilari per il movimento e per lo spostamento delle persone. Ma anche perché se uno va in Europa, gira anche nei comuni non grandissimi, tutto funziona da questo punto di vista. Quindi ti consente di non dover girare sempre con l'automobile e quindi di avere mezzi pubblici efficienti. Questo non è dato di fatto. L'altra questione che è sempre aperta, le chiedo se è ancora sempre aperta, personale. Settore turismo, pubblici esercizi, ristoranti, negozi, cercano ancora personale. Siamo ancora a questi livelli. O si è avverato quello che si temeva? Siamo arrivati all'estate e con delle lacune pazzesche? Sì, il tema personale non è un tema di oggi, è un tema che viene dalla pandemia e anche prima. Ed è un tema che dovremo affrontare anche nei prossimi anni perché da Veneto Lavoro i dati sono un po' preoccupanti perché dicono che nel nostro territorio mancano 150 mila lavoratori addetti. A lei risulta una mancanza anche nel territorio padovano? Sì, sì, sì. Sul territorio padovano questo tipo. E poi insomma c'è una carenza, la bassa natalità, lo vediamo anche sulle scuole. Prima c'erano classi da 30 bambini, adesso arriviamo a classe da 7-8 bambini. E quindi è un problema che dovremmo affrontare con molta attenzione perché il rischio è che se tu non hai forza lavoro devi chiudere l'attività. Poi abbiamo anche l'immigrazione dei nostri giovani che vanno all'estero a fare esperienza come è giusto che sia. Anche perché è attrattiva a volte. È attrattiva, ma fanno esperienza di tutti i tipi, ma arrivano anche a studiare, ma arrivano anche a lavare i piatti perché basta solo magari a volte dire l'obiettivo è quello di imparare una lingua. Devo imparare una lingua perché mi serve, perché voglio fare esperienza. Ma questo è tutto positivo. Però dopo dobbiamo anche capire che insomma le nostre imprese hanno bisogno di mano d'opera e dobbiamo fare di tutto perché noi abbiamo bisogno anche di mano d'opera. Qualificata. Qualificata. Quindi dobbiamo fare formazione, dobbiamo fare i corsi di formazione, dobbiamo istruire i nostri dipendenti perché siano anche insomma preparati per il lavoro che insomma sono chiamati a fare. Ma Padova è attrattiva? E questo è un altro per i giovani? Sì, Padova è attrattiva per i giovani. Anche qui dobbiamo magari fare dei ragionamenti con l'università per capire che quelli che vengono a studiare a Padova, quanti si fermano a Padova perché insomma Padova dovrebbe essere ancora diciamo più aperta, più accogliente anche dal punto di vista lavorativo con i giovani che vengono a studiare a Padova. Altri paesi lo fanno se intrattengono i ragazzi e i studenti. Se gli danno delle opportunità qui. Noi siamo ancora un po' scollegati ma stiamo facendo anche un percorso per diciamo tra università e impresa molto adesso si sta muovendo veramente molto velocemente perché cerchiamo ingegneri, cerchiamo questo male qualificato. Però quello che lamentano questi giovani per restare sul territorio che non riguarda per carità solo Padova è un po' il problema d'Italia, a parte la realtà di Milano della Lombardia dove già c'è un reddito, è il reddito basso perché di fatto è il reddito basso e non ci sono prospettive di carriera perché le aziende sono aziende di carattere famiglia, comunque impostazione familiare senza entri in azienda arriverai a questo livello qui, entri in azienda lasci il 6, ci resti con quello stipendio, se tutto va bene ci sarà un aumento, una tanto, un patito, il patibile. Questo non è bello come immagine però questo circola tra tutti i giovani, questo è un dato di fatto che viene anche comunicato dai genitori stessi che vivono la situazione, è un problema. Noi dobbiamo sposare secondo me il modello anglosassone, il modello anglosassone è quello che tu sei anche il manager della, passatemi il termine, della carta igienica, tu sei il manager, tu sei una persona che ha un compito, tu sei il manager di quello che devi tenere pulito, quello tu devi pulire, cioè dobbiamo dare anche dignità a chi fa un lavoro e dobbiamo anche essere premianti con quelli che, ma dobbiamo anche aprire alla possibilità di far carriera, perché se noi non apriamo a un dipendente di far carriera, è chiaramente come se tu nasci sul negozio e devi morire sul negozio, questo è dequalificante, quindi il ragazzo oggi cerca emozioni, cerca lavori che gli diano la possibilità di avere tempo libero, di avere tutte, prima dicevamo, davamo la colpa al reddito di cittadinanza, per cui è cambiato, e il mondo è cambiato, bisogna ritararci, bisogna capire cosa dobbiamo fare e come lo dobbiamo fare per avere ancora questo tipo di attrattività della forza lavoro. Presidente, il tempo è volato, abbiamo anche altre questioni da affrontare, perché poi ci sono anche i problemi della sicurezza e non soltanto questo, lo affronteremo una prossima volta, noi la ringraziamo, buon lavoro, perché penso che ce ne sia da fare comunque, grazie a voi telespettatori, continuate anche a scriverci, però anche rivolgetevi per le questioni più tecniche a Ascom, Coff, Commercio o Padova, per quel che riguarda il territorio, grazie ancora, buon proseguimento, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.